Aereo è una società di consulenza nel settore idrico che fa ricerche indipendente a livello internazionale di tecnologie innovative per le utility del mondo dell'acqua e anche per tutte le industrie che utilizzano acqua nei loro processi produttivi. Quindi noi aiutiamo queste aziende a ridurre i costi nel trattamento dell'acqua, a trovare soluzioni che consentono di ridurre il loro impatto ambientale, di rendere la gestione più economicamente sostenibile e di meglio rispondere alle normative.